Ciao, mi chiamo Valeria. Un anno fa mi sono laureata presso l'Università degli Studi dell'Insubria in Biomedical Sciences, col curriculum oncologico, dopo aver effettuato un anno di tirocinio per la mia tesi presso l'ospedale San Raffaele a Milano, dove ho avuto l'opportunità poi di continuare per altri sei mesi il mio progetto di tesi e venire quindi a una conclusione di quello che era tutto il percorso della ricerca. Finito questo percorso all'interno del mondo della ricerca ho voluto proseguire la mia carriera in ambito aziendale quindi attualmente mi trovo all'interno di un'azienda in crescita, in rapido sviluppo che si occupa comunque di terapie geniche e cellulari in fase clinica e preclinica per la cura comunque del cancro. Attualmente sto effettuando uno stage che molto probabilmente verrà rinnovato e formalizzato poi con un vero contratto quindi posso solo augurarvi buona fortuna per la vostra carriera, per il vostro percorso formativo che vi possa comunque aprire le porte del mondo accademico o comunque aziendale e qualsiasi sia la vostra scelta, buona fortuna in bocca al lupo!